Musica Tere spettatori del Pinasagno, buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa sport della nostra emittente. Anche quest'oggi saremo in compagnia del mattino provinciale e regionale del quotidiano del sud di otto pagine per parlare dei principali eventi sportivi. Ricordiamo che questa sera è Napoli Europa League. E partiamo dal mattino di Napoli regionale. Carica Benitez, Amsic va recuperato, Higuain sia più leader. Ricordiamo che questa sera con lo Slovan Bratislava in Napoli per l'ultima partita del girone di qualificazione dell'Europa League. Soltanto 5.000 spettatori, record negativo. Vediamo un po' la probabile formazione. Per quanto riguarda lo Slovan Bratislava, Pernis, Cicos, Gorosito, Udak, Jablonski, Kolkak, Stefanik, Elenar, Zovkak, Milinkovic, Peltier. Questi sono gli undici schierati dall'allenatore Ciovanec. Il grande ex, Emozione Marec, bello giocare contro gli amici dello Slovan. E l'intervista a Raul, 37enne bomber spagnolo. Il Napoli deve fidarsi di Benitez, l'ex stella del Real. Ammiro il suo lavoro. Passiamo al mattino di Avellino che naturalmente apre con il nuovo stadio. Una tana da lupi, il padrone svela il suo progetto. Ecco come sarà lo stadio. Quindi Taccone presenta il progetto del nuovo stadio. Tempi, il consiglio sarà chiamato a pronunciarsi per dare via libera alla spesa di 70 milioni. L'iniziativa, la squadra in visita a Roseto. Arriva la benedizione. E ancora l'Avellino antipescara Eurebus. Rastelli pensa alla difesa a 4. Schiavone recuperato, pronto a vestire la maglia da titolare. Conferma per Zito. Taccone accelera con l'Inter per Puskas e Camarà. Maniero, indiscrezione. A gennaio si può fare. Passiamo a 8 pagine. Rientri importanti. Iniziamo con l'Avellino. Schiavone è pronto a ritornare in campo. Poi toccherà a Regoli. La rinascita dell'Avellino passa dal recupero degli infortuni. Di corsa in mediana. L'ex cittadella assente dalla trasferta di Bari. Sabato potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Dal Sibilia, abitante tornato da Viglia Stewart. E proseguirà con le terapie. Lavoro ridotto per Visconti. E ancora gli anziani del Roseto e i Lupi. Tornate presto alla vittoria. L'incontro dell'ambito del progetto. Un giorno per la nostra città. Passiamo al Benevento. Brini a Messina vedremo un Benevento diverso. Il tecnico Sannita dovremo evitare di adattarci al ritmo dei nostri avversari. Il divieto al San Filippo di Messina e il match sarà a porte chiuse. E ancora l'intervista al San Filippo giocheremo come se fosse una finale. Alfa Gama rientro dopo la squalifica è già a carico. Ultimo quotidiano. Il quotidiano del Sud. Apri anche qui con Taccone. Il nuovo stadio non è più un sogno. Presentato ieri mattina il progetto del nuovo partenio Lombardi. Solidale. Lupi in visita al Roseto. Qui Pescara. Baroni sorridere a Betà. Grillo e Out. Biancazzurri pericolosi negli ultimi 15 minuti. L'intervista a Maniero. Dobbiamo tenere alta la guardia contro l'Avellino. Dobbiamo cercare la giusta continuità di risultati. Ancora una volta uno sguardo alla classifica. Avellino sempre nella zona playoff. A meno 8 dalla prima. A meno 4 dalla seconda. Vi ringrazio per l'attenzione. Buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Buon aspetto. Buon... Buon aspetto. Grazie a tutti.